I primi tre giorni di testamento con il F10, qual'è la tua opinione dopo questo? E' stato un test molto positivo, abbiamo fatto 1.400 km, buona relazione, buona performance per cominciare, tutti i numeri, tutti i simulazioni, i numeri di tonnellate, tutto ciò che si tratta bene, quindi siamo riuscimamente felici. Quali sono i feedbacks da Felipe e Fernando? Il feedback in generale è buono, una buona linea di base per iniziare a sviluppare i cari per i prossimi testi e i primi tre giorni, quindi è positivo. C'è una buona domanda, ma non lo sappiamo. Vediamo che siamo riusciti, ma non sappiamo quanto siamo riusciti rispetto alle altre. La buona cosa è che, come ho detto, tutte le calcolazioni e tutte le valutazioni che abbiamo fatto durante il design e la campagna di testamento del nuovo car sono vedendo un buon risultato nel corso. La prossima settimana siamo in Heretz, avremo qualcosa di nuovo sull'auto? Sì, abbiamo avuto qualche sviluppo di meccanica e qualche sviluppo di sviluppo di sviluppo e poi cominciamo in test 3, test 4 con i nuovi componenti aerodinamici. A presto! A presto! A presto! A presto!